Che bontà questi straccetti di pollo e limone! Sono facili, rimangono morbidissimi e sono gustosissimi. Spremete il limone e tenete da parte il succo. Tagliate il petto di pollo a strisce, versatelo poi nella farina e infarinate bene gli straccetti. Versate il burro in una padella, aggiungete anche una fetta di limone e fatelo sciogliere. Aggiungete poi gli straccetti e fate dorare per qualche minuto. Poi sfumate con del brodo vegetale e fate addensare la crema. Unite poi il succo di limone. Portate a cottura gli straccetti di pollo. Se fosse necessario per renderli belli cremosi, potete aggiungere dell'altro brodo vegetale. A cottura ultimata, regolate di sale, servite gli straccetti di pollo con la sua crema e magari con qualche fetta di limone. Facili, veloci e gustosi. E se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.